... Vediamo cosa succederà in questa ripresa. Nel frattempo Spagnolo da tre punti. Riceve Spagnolo, Caspazio per il tiro da tre punti. Spagnolo si prende l'arresto di tiro da lontanissimo. Che va dal playmaker a Spagnolo. Sei minuti alla fine del secondo quarto. Spagnolo cerca spazio, lo trova da otto metri. Massimo in transizione, Tinkle poi si deve fermare. Va da Cuono, poi Spagnolo. Il blocco di Dime, ancora Spagnolo da otto metri. Meno sei ancora, Spagnolo. Sei secondi, questa volta spara da tre punti. Angolo da Cuono. Che va dentro, cerca l'arresto di tiro. Poi dall'arco, Matteo Spagnolo. Lajevi qui chiedeva forse un fallo di attacco Spagnolo. Che non è stato fischiato dagli arbitri. Poi dall'altro Spagnolo contro di Lucia McDuffie. Il palleggio dell'ex giocatore del Real Madrid. Runner e poi... Che poi vuole attaccare contro Sorocas. Scarico per Spagnolo. Palleggio, arresto e... L'obiettivo. E quindi potrebbe essere anche la stessa storia di questa sera. Intanto Spagnolo... Spagnolo. Palleggio, arresto e canesto. Riceve il prodotto della stella azzura Roma. Che qui attacca, va in palleggio. Arresto e tiro. Allenatore di Dimeo Sacchetti. Chi meglio di lui per chi lo vede lavorare tutti i giorni? Qui Spagnolo. Alla fine però va da Spagnolo. Uno contro uno contro Zanotti. Spagnolo dall'angolo. Venetti dice teniamolo fuori dal gioco. Spagnolo va dentro, appoggia il vetro. Aspetta i blocchi. Va da Miller, appena entrato. Mamma mia, la virata di Spagnolo. Poi va a finire. Questo supplementare, sempre che ovviamente, basterà soltanto un overtime. Spagnolo trova sotto Tinko il contatto spazio. Un po' di contatto. Tinko per Sorocas che prova. Dai e vai. Ma arriva un'altra palla persa dell'open job meet. Cross over. Gets the ball. Jump shot from the free throw line. Poi Moretti tira dall'angolo. Sbaglia. Rimbalzo è conquistato da Spagnolo che lancia dalla parte opposta. Primi nove minuti nel match per Sanford. Spagnolo finta il tiro. Poi gira dalla parte opposta. Alza per la... Proprio per Spagnolo. Abbiamo scavalcato il meno 4 nel quarto. Che in... Sette punti di media in questa stagione. Il primo vantaggio tra i viso. Spagnolo va dietro la schiena per McNeese. Che prende... Transizione Spagnolo. Simpsi in avviso. Uh! L'inseguimento. È stata una mancanza di comunicazione. E fa pagare l'errore. Miller pescato ancora in angolo. Serma. Ha una mezza idea. Poi non esagera. E allora aspetta Spagnolo. Che gioca il pick-roll. Con McNeese. Bellissima alzata. Diego Placcatori. Ed è nuovo a parità. A quota 53. Spagnolo. Ribalta. Ferreris. E anzi. A meno uno. Il Banco di Sardegna. Ancora Spagnolo. Che palla per Pincol. Che sì.